sono Emiliano Di Marco e probabilmente ancora una volta vi starete chiedendo perché sono vestito come un imbecille. La ragione per cui mi sono messo questa maschera è perché in questo momento in cui non possiamo viaggiare ho deciso di raccontarvi una storia meravigliosa e misteriosissima che si svolge appunto sul fondo degli oceani, negli abissi marini. È la storia di Atlantide, il continente scomparso, una storia che probabilmente qualcuno di voi già conosce, quello che forse non sapevate è che anche questa storia è stata inventata da Platone che la scrive nelle sue opere, scrive ben due dialoghi, doveva scrivere anche un terzo ma non l'ha mai fatto e quindi noi non sappiamo come voleva far finire questa storia. Allora Platone ci racconta che 9.000 anni prima di lui, il che vuol dire più o meno 11.000 anni fa, gli dèi litigavano terribilmente fra di loro per decidere a chi dovessero toccare le varie parti del mondo. Una cosa su cui proprio non riuscivano a mettersi d'accordo era chi dovesse essere, chi dovesse toccare la parte più bella di tutte, che altri non era che la Grecia e in special modo la città di Atene. Guarda caso Platone era proprio nato nella città di Atene. Alla fine fra tutti gli dèi e le dèe chi la spuntò fu Atena, la dè della saggezza, il cui simbolo era questa civetta che guarda caso poi diventò proprio il simbolo di Atene. Gli dèi che erano permalosissimi su questa cosa si arrabbiano da morire. Chi la prese peggio di tutti fu Nettuno, il dio del mare, che disse, ah sì? Non mi avete voluto dare Atene? Benissimo. Cosa fece allora? Attraversò le colonne d'Ercole, che erano queste qui, e andò in mezzo all'oceano. Qui, dagli abissi marini, tirò sulla terra e costruì un'isola meravigliosa, Atlantide. Per essere sicuri che fosse il posto più potente del mondo e che dominasse su tutti gli altri, gli fece anche un bellissimo regalo. Gli regalò delle mura indistruttibili che nessun nemico avrebbe mai potuto abbattere. Da parte sua, anche Atene ha deciso di fare un regalo alla sua città preferita, Atene, e gli regalò le leggi, le leggi migliori che fossero mai state fatte. Platone poi ci racconta molte altre cose, ci racconta come era fatta Atlantide, come era governata, e poi ci dice che Atlantide, appunto, riuscì a conquistare tutto il mondo, tranne Atene. Quando poi si andò a scontrare con Atene, per la prima volta, gli abitanti di Atlantide furono sconfitti. Un'altra cosa che ci dice, che la cosa più famosa del mito di Atlantide, è che le leggendarie mura indistruttibili di Atlantide, in una sola notte, sprofondarono insieme a tutta l'isola sul fondo dell'oceano, e ancora oggi stanno lì, inutili, costruendo tutti i loro segreti e i loro misteri. Ora, questo è quanto ci racconta Platone. Quello che ci resta a noi da chiedere cosa voleva dire con questa storia? Allora, se lo chiedete a me, il senso di questa storia in realtà è abbastanza semplice. Quello che Platone vuole dirci è che se volete avere uno stato felice e potente, uno stato che sia il migliore possibile, non vi servono delle mura indistruttibili, vi servono delle leggi, vi servono le leggi migliori che potete avere, perché le leggi sono quelle che fanno andare avanti uno stato. Le mura, come vediamo in questo momento purtroppo, sì vi possono proteggere, ma possono anche imprigionarvi, e quindi se non avete delle leggi che funzionano, le vostre mura non servono assolutamente a niente. Meglio sforzarsi di avere delle leggi buone piuttosto che delle mura indistruttibili. Allora, io spero che questa storia vi sia piaciuta, quindi a me non resta altro che ringraziare il mio bambino preferito Nicola, che mi presta i suoi giocattoli senza i quali non potrei fare questi video, salutare la sua mamma, salutare tutti voi, come tutte le volte ricordarvi di lavarvi sempre le mani, mi raccomando. Ciao!